Buongiorno amore, siamo arrivati a Marsiglia e siamo in ritardo perché dobbiamo scendere a far colazione e ci siamo svegliati tardissimo e la colazione non ce la servono più Mamma ma cosa dici? Guarda lì Dove? Oh mio Dio non ci posso credere ma ci hanno portato la colazione in camera Con me hanno capito che dopo Wow Mamma hanno capito che dopo dobbiamo andare in cucina e la facciamo qua per fare il suo video Guardate quante omelette che buone Guarda la frutta La frutta Qua ci sono i cappuccini che secondo me Qua c'è il burro Buono 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 Tutto buoni succhi di frutta e lattini freddi Tutto buonissimo qua sotto c'è altro No c'è questo sale Lo zucchero E qua? E qua c'è i cereali I cereali Che bello Va bene va bene Allora niente Vanessa Ecco il latte Vedi due lati No ce n'è di più Forse quattro No questi sono i sufi Poi avete pianto Ah Qua c'è il caffè Va bene Non fai colazione Va bene Niente Vanessa sta ancora dormendo Allora ci pensiamo io e te a papà amore Sì Ok buona colazione Vediamo un po' cosa hai scelto tu Latte con i cereali amore Buono Eh Buono buono Sei pronta Anastasia Fatti vedere Prontissima tu da ieri che sei pronta per andare in piscina Oggi c'è vento e quindi non possiamo scendere per Marsiglia perché rischiamo di ammalarci Andiamo a vedere in piscina com'è la situazione Dai Ragazzi stiamo andando in piscina C'è un'aria bestiale soltanto qua nei corridoi Vero? Eh Speriamo di non ammalarci perché oggi qua c'è un forte vento e noi non siamo andati appunto giù a Marsiglia per non prendere freddo Ma c'è un'aria anche qui che era No qua no è vero perché di là ci sono le camere quindi erano tutte aperte Ok siamo in ascensore vediamo che piano ci porta stiamo salendo se nessuno lo ha chiamato forse ce la facciamo 10 10 12 Ho visto papà 12 C'era papà a 12 Eh gliel'hai fatto Questa è una mia vista No? 16 andiamo Andiamo Eccoci Eh ma qui a chiuso dovrebbe starsi meglio Non correre che incianchi Qua si sta bene Vieni adesso davanti dopo qua Qua si sta bene La mia forse La mia forse State bene voi? Sì ma io voglio quella la prendo qua Bisogna prendere il giubbottino salvataggio e andare a chiedere dov'è Adesso chiediamo a quel signore che c'è là in fondo Vai Anastasia sei pronta a lanciarsi Ma è bagnato È bagnato perché l'hanno usato tanto adesso entri in acqua anche tu e lo bagni È tanto bagnato? Brava Vanessina Pronte per il vostro primo bagnetto in piscina del 2024? Uuuuuh Com'è? È calda? Eh? Ci arrivi Ci arrivi Vai Ani lanciati Sì Com'è amore sei contenta? Eh? Vai Lasciati Anastasia Anastasia ascoltami Lasciati Ani Stai a galla Ma dai ma non Ma non fare la fifona Che stai a galla Allora Adesso vi dovete scaldare Uuuu Anche tu eh? Ma tu cosa fai? Sali e scendi dalla scala e basta? Che sacco i cappetti Mi riguardo Vai Ani Lanciati Allora Chi rimane più sott'acqua? Ok Ok? Finiti tu Vanessa? Sì Pronta? Uno Due Due Tre Quattro Cinque Seis Seis Un 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 che lei è furva adesso andiamo quindi delle alti passate non lo so anche le montagine dobbiamo aspettare che esce Valentina dalla piscina e la sole in acqua lo vediamo ok allora siamo uscite dalla piscina e hanno alzate cosa mangiano buono un po' con la cartella un po' con la cartella mentre la mia villa ce l'ha di bella dopo vedo sempre si distaccami su TikTok che è un gioco con questo gioco no? praticamente tu scrivi un codice faccio usare 389.8 che deve avere quattro numeri anche l'altro io e te però non ci dobbiamo guardarlo non dobbiamo guardarlo no? il tuo è 349.8 e io ti dico 3,2,6,9 se un numero è giusto nel tuo codice dice un numero giusto e alla fine dobbiamo scoprire qual è il codice della mia versione poi te lo spiego meglio anche perchè non c'è più scena oggi più scena sta facendo ginnastica e da tutto con i due e facciamo fatica proprio a comunicare finiamo la mereta poi ci ripostiamo in un andiamo a cambiarci ok? lavi i capelli e asciugati allora siamo venuti a mangiare in questo ristorante sulla nave che si chiama Fresco Baldi dove possiamo anche fare una degustazione di vini molto in molto bello mi raccomando vi voglio educa adesso voi assaggerete i vini e mi direte quali vini vi piacciono di più tu che poi in base al vostro consiglio io e papà ci facciamo la bottiglia vi dico una cosa no scherzo ovviamente vi voglio dire una cosa perché c'è trippa alla Fiorentina? beh la trippa a papà piace tantissimo la trippa alla Fiorentina perchè questo locale è tipico toscano e Chirenze si trova in Toscana va bene Ani scegli cosa mangiare eh mi raccomando anche una pasta con ragù che qua sarà sicuramente buona pasta ragù? no si io me la mangio la pasta ragù o altrimenti la bistecca è buona però la dividete perchè è grossa magari no cosa è scritto decidete ok? ma i primi piatti un papardelle 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 ah al ragù al ragù che vuol dire? e la papardelle è tipo uno spaghetti un pochino più largo è buonissima al ragù eh però di cinghiale fa niente e pinoli di vecchi sapori è ancora più buono il ragù di cinghiale no io ho pasta ragù ok ci siamo vabbè poi guardi ok? poi vediamo che cosa abbiamo scelto bimbe è arrivata la pasta le papardelle al cinghiale al ragù di cinghiale com'è Anastasia? buona è buonissima vero amore? Vanessa? si buona è buona amore? si sente la differenza del ragù che mangiamo solitamente? è molto più buono? si o no? allora cena finita Vanessa stai dormendo? sei stanca? stasera andiamo a dormire presto perché domani si va a cagliari ma non volevate vedere una cosa voi stasera? no lo spettacolo? qui amici ma no lo spettacolo? no 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 la palestra ah brava insieme non volevo portare a fare un giro in palestra io sto ancora finendo di cenare poi andiamo ok? no ma cos'è arrivato papà William ragazzi guardate che costata la Fiorentina aspetta un olore facciamocela tutta e anche il sangue buonissima allora visto che Anastasia non c'è ma c'è solo Vanessa ti do ti concedo questa trelibatezza Anastasia questa carne non è buona per niente no in effetti no non è buona quindi non te la voglio dare perché io non vorrei che tu sia mai beh questo sei no questo è un pochino aspetta ferma 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 è un po' grossa va bene nonostante non sia molto buona Anastasia non vuoi pezzettino piccolo eh com'è Vanessa? fantastica brava amore ridillo perché questa è per Vanessa è fantastica questa carne vediamo Vanessa questa è la parte più buona della carne oh che roba grandissima Vane tutto sangue amore vai ah amore non vuoi amore io mi assaggiavo amore no cara miau grazie eh 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 non assaggiarlo eh ehi Vanessa non eravamo piccolini noi ci facevano assaggiare un goccino di vino eh nella speranza che facendo non piacendoci poi in futuro non lo avremmo mai bevuto ma così non fu allora bimbe la serata non termina qua ma abbiamo due biglietti del bingo eh per questa sera a mezzanotte esattamente in questo teatro verrà avverrà l'estrazione ma adesso tra un'oretta tra un'ora cosa inizia? eh c'è ci sarà un altro spettacolo e poi a mezzanotte ci sarà l'estrazione abbiamo preso due biglietti uno per te e uno per te se riusciremo a sopravvivere alla mezzanotte li controlleremo in diretta altrimenti domani mattina eh al Casino potremo controllare i numeri che saranno usciti prima di scendere a Cagliari va bene? si ok ma dato riusciremo eh? riusciremo eh speriamo dai se alle 11 c'è quello eh ma sono le 10 ancora eh esatto vai va bene va bene proviamoci ok? allora ci sarebbe l'estrazione del bingo ma non sappiamo dov'è esattamente quindi abbiamo deciso di cosa c'è Vane? abbiamo deciso di verificare domani questi numeri adesso ci vediamo un cocktail in attesa che papà torni pieno di soldi perché sta giocando a Casino alla roulette Vane è tutto ok? sei stanca? domani siamo a Cagliari uuuuuh ma dove siete passi? hai bussato? io sì io ho bussato ho finito ho finito ho finito ho finito ho finito adesso ti lascio qua finchè la signora non viene a prenderti e a sgridarti apri vai vai ma adesso dai vai 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 sei un idiota ma fa freddo qua dentro c'è la finestra aperta eh sì 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 bionda ma se abbiamo usato le porte ascolta ascoltatemi ascoltami costa non ci fa più salire sulla nave costa ci da una diffida nooo zitte basta adesso basta adesso basta perché costa ci diffida e non possiamo più fare i crociere con costa quindi ci diffida nooo sì esatto fate le serie andiamo a dormire allora bimbe ascoltatevi pigiamino aspetta giornata in palestra in piscina terminata vanessa salutiamo i nostri cucciolini e domani e domani siamo a cagliari quattro ma ne resta di restare così 1 e 2 e 3 e go no vabbè divino mai 1 2 3 go ragazzi il video finisce qui iscrivetevi al canale se potete comparare e lasciate un belletto questo video e mi raccomando abbonatevi al nostro canale a 3,2,1,0,5,5,5 torno cuccioline e cuccioline ciao aria allora aria come come with us what yes a crodino prendila allora cucciolini cosa facciamo oggi assaggiamo che cosa la cioccolatini di inglese oggi assaggiamo i cioccolatini che aria guardate ci siamo qua siete bellissime si anche voi due avete lo stesso costume e Anastasia e aria hanno lo stesso costume aria vai a prendere i cioccolatini hai cambiato i cioccolati vai andate ok allora questa sera abbiamo deciso di fare il bagno alle 3 di notte in piscina siete cariche siete pronte si siete sicure siete sicure di volerlo fare ma anche alle 3 di notte quando ce l'ho la la mostri i mostri alle 3 di notte ci sono anche tu ci chiami la ghost the ghost i fantasmi si oh fammi vedere aria questo è un cioccolato ma questo è un cioccolato ma come una flake buono con i cornflake si questo è un cioccolato con i cornflakes cereal ah no questi questi sono con i cornflakes sono un cioccolato cerealetti leggi ah ok ok ma questo franci è con la miele miele honey miele per cornflakes ok questi buonissimi ok aria go ok i rimassaggiamo eh ragazze io ve lo dico già eh che li assaggio pure io e anche Samantha li voleva assaggiare aria ask your mom please mamma ok vieni assaggiare i cioccolatini con noi ok vai aria date una sedia ad aria fate sedere anche aria aria qua e tu sei con lei ah ok dove va aria 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 vuole farci un cocktail aria vuole farci un cocktail ma non va aspetta aria come cioccolato aspetta 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 no aspetta ste mia bocca è come mezza a tua bocca perché la cicca hai mangiato la cicca e quindi ok ok con tre due uno come sono? puoi vedere cosa c'è? buoni adesso li assaggio anch'io buoni buoni assolutamente anche ok grazie aria assaggio anch'io? buono un po' farinoso però è buono buonissimo ok assaggiamo gli altri adesso assaggiamo questi questo è tutto cioccolato? si non c'è niente oli cioccolato ok buonissimi no 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 avevo proprio voglia di cioccolato e tanto che non mangio cioccolato basta è un bottone è un bottone si ti chiami cioccolato bottone di cioccolato bottone di cioccolato vieni aria aria come aria come ok mangiamo il bottone chocolate bottone ok 3 2 1 buoni 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 ok come sono anch'io anch'io ue 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 assaggiamo il bottone di cioccolato buonissimo questo è buonissimo è più buono di quello di prima questo è crunchy questo è crunchy vero? si con dentro forse dei cornflakes vediamo bello buonissimi ok ok 3 2 1 assaggiamo l'ultimo cioccolatino crunchy con i cornflakes buonissimi buonissimo 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 bravo i cioccolatini sono finiti li abbiamo provati tutti votiamoli però eh allora votiamoli dai io a questo qua gli do 1,9 9 questo 10,9 veramente e questo qua 1,8 e mezzo 1,8 e mezzo ok ok Isabella questi mi piacciono tanto questo è un 10 3,10 ok questo 7 ok mi piacciono tanto ma è buono e questo 1,8 1,8 perché è solo cioccolato non c'è tanto esatto vogliono i suoi gusti Anastasia allora a me questo gli do 8 ok a questo gli do 6 no no magari 7 beh ognuno i suoi gusti amore se per te è un 6 è un 6 è un 7 e per questo gli do 10 si sono piaciuti di più che sono puri solo cioccolato vero? allora bambine adesso facciamo una pausa poi andiamo a cena e ci vediamo stasera con il bagno in piscina alle 3 di notte 3 di notte 3 di notte attenzione ai fantasmi sei pronta Anastasia? non è che poi hai paura piangi vedi cose strane no? ok a dopo allora ciao ciao ah ma aspettate un attimo è arrivata la zia Samantha la mamma di Isabella e Aria che voleva anche lei votare i cioccolatini tutti e tre? si si ok se ti vanno si ok la ricordate la zia Samantha? buono a te piace? ok perché c'è l'aria dentro c'è aria dentro perfetto ecco perché Aria non c'è più è finita nel cioccolatino no ma no ma è qua Aria ciao Aria ok Samantha sa già croccante si beh tu li conosci già ovviamente buono buono è il mio preferito ecco qui è buono il cioccolato normale si c'è chi piace semplice ciao ciao amore ok grazie per la tua testimonianza ma allora cuccioline e cuccioline facciamo un sondaggio scrivete nei commenti se secondo voi la zia Samantha ed io perché siamo sorelle ci assomigliamo sì no pochino per niente ok bimbe siamo appena tornate da cena Isabella e Vanessa sono già uscite con il costume le furbette mentre Anastasia e Aria devono ancora indossare il costume Aria wear dress e wear costume come si dice costume? costume costume quindi ascoltate non facciamo troppo caos andate a mettere il costume Anastasia e Aria e ci vediamo in piscina ok tutti insieme siete contente? sì troppo speriamo che l'acqua non sia troppo 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 fredda eh attenzione perché a quest'ora vado a toccare c'è il gatto era qua amore com'è l'acqua? normale bene non è troppo fredda provo anch'io ragazzi perché non mi fido ma è fresca eh comunque ok sì allora bambine visto che in tantissimi Isabella ci hanno chiesto di essere salutate da anche da te e da Aria ma veramente veramente in tanti salutiamo già adesso così non ci dimentichiamo chi sono? Miriam Miriam Silvia e Anna ok ciao saluto bravo amore ok andate a mettere il costumino ah volevo dirvi una cosa dicono c'è una leggenda che narra che di notte ci sono i fantasmi in piscina ma stiamo dicendo che a mattina quando c'è in piscina c'è monstri e ferie e ghost e ghost strange people ok si ok andate a mettere il costumino ok allora anche Anastasia guarda vieni iiii abbiamo le trezzine qua uguali è vero vi siete fatte le trezzine uguali bellissime bellissime amore sono tutte bellissime ok dai cominciamo a entrare in acqua Isabella è freddo Isabella Aria è super attiva invece ha già messo il gonfiabile dove siete? io sono a parte i piedi come sei? lavare i piedini ok ognuno di voi lava i piedini Alla storia la prima a entrare sei tu allora non dobbiamo cadere dal gonfiabile allora non dovete cadere dal gonfiabile questa non la sapevo ok non ti lanciare che ci sono io e i miei bagni io aria è in quello poi dai il mio braccio 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 cosa? dai il mio braccio grazie oh oddio ragazzi vediamo ragazzi Vanessa dice che c'è un taffano in acqua è vero ma? potrebbe essere sì vai vai sei attenta eh non farti pungere è sotto il gommino sposta quello sotto il gonfiabile non c'è più l'abbiamo perso ah ce l'ha toccato ma eccolo qua oddio ma sei sicura? non nego ma secondo me non è un taffano secondo me è un pezzo di erba ma ne puoi? ecco ce l'hai lì buh tiralo 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 fuori zizza aria uccidilo Vanessa schiaccialo col piede bravissima ok vai isabella aspettami i piedi miro da aspettami non è fredda? aria e anastasia sono già sul gonfiabile tutte e due sullo stesso gonfiabile ma da quello che ho capito c'è una sfida in atto che prima sono paura perché c'è l'ho fantasma c'è il fantasma Isabella non avere paura ci sono io che ti proteggo allora Isabella e Vanessa Anastasia Anastasia fai parlare anche me non urlare troppo altrimenti arriva il fantasma vediamo se anche Isabella e Vanessa riescono a sopravvivere sul gonfiabile non dovete cadere bravissima ok allora fatemi sapere intanto come l'acqua ma non è caldo ma non è freddo quindi è piacevole un pochino fresca qua c'è qualche bimbo fuori dall'acqua cosa è successo Vanessa allora in questo momento Vanessa e Isabella stanno vincendo eh perché sono eh ma prima era fuori dall'acqua qualcuno di voi vorrebbe un gelato davvero wow non lo so abbiamo vediamo i cornetti vado a vedere volete il gelato voi Anastasia vuoi il gelato si ok allora vado a guardare quali gelati ci sono ok fate le brave porta un asciugamano se ci dobbiamo asciugare i mali io ho portato questi due cornetto e due biscottini va bene ok lo so lo so ah ok cornetto Isabella ok grazie prego no biscottino aria aria do you want cornetto ti piace qui dai cornetto ok prendi cornetto come va bene buono avevi voglia di gelato eh anche tu amore com'è il gelatino buono è buono aria dai 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 che abbiamo un'altra sfida da fare allora chi ha finito il gelato solo Anastasia Anastasia io perché era piccolino era piccolino chi è che ha il gelato piccolino Vanessa no amore basta basta gelato è tardissimo eh io non sto giocando ho sentito un rumore hai sentito un rumore come ogni acqua di là di là devo andare a controllare volete che vado a controllare si ok ok dai sei urlo venite in soccorso eh però ho più paura mi sembra di sì ok ok ragazzi tutto posto è tutto ok è sicura eh sì mi sembra di sì ok ok Isabella dove stai andando in bagno devi andare in bagno ok vai more sì va bene ti riusci il gelato eh ok Isabella è andata in bagno l'aspettiamo così poi procediamo con la challenge ok ok ragazze ma Isabella quanto tempo ci sta mettendo a tornare ragazzi scusate 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 io scusate un attimo bimbe non devo fare un attimo una cosa devo andare a vedere una cosa arrivo subito eh ok ma cosa succede ma no niente volevo capire qua se la piscina stesse perdendo acqua ok ok no tutto a posto ok mi sembrava di aver visto un'ombra un personaggio che è spuntato fuori dietro la piscina ma non ho ben capito di chi si trattasse se avete visto qualcosa per favore scrivetemelo nei commenti ok sono un po' spaventata ma spero che sia tardi e che sia molto stanca e che io abbia visto questa ombra solo perché sono molto stanca scrivetemi nei commenti se avete visto qualcosa anche voi e che cosa mamma tutto ok sì sì tutto ok sono andata un attimo a vedere se perdeva la piscina perché mi sembrava di aver visto che usciva dell'acqua dalla piscina comunque tutto ok ma Isabella non arriva più Isabella ma speriamo che Isabella non stia male perché a questo punto mi viene da pensare che non si ah Isa ciao tutto ok mi hai fatto uno scherzo per caso no scherzo no no così niente non ti preoccupare dai ragazze che dobbiamo fare la challenge dobbiamo fare la challenge ok Isabella dai sali sul gonfiabile ok la prossima è la lotta ok facciamo la lotta ok adesso dovete riuscire ad allontanarvi ok 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 così va bene Aria e Anastasia avete vinto la challenge yeah uuuuh avete vinto la challenge ma ragazzi guardate che c'è riuscite riuscire piano 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 Samantha aiutaci aiutaci c'è qualcuno Samantha Isabella no Isabella no piano piano Isabella non cascare eh non scivolare oh Dio ma chi è via 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 ti lasciugamano via 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 ok ragazze come io vi non lo so io prima Isabella Isabella quando tu eri in bagno ho visto questa immagine questa faccia questa no e credevo che eri tu che ci facevi uno scherzo ma io sei in bagno adesso l'ho capito davvero ma non so chi è no 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 chi è oh my god oh mio dio ma chi è sono viste allora qua ci sono tanti gatti randaggi ma scimmie randaggi non ne avevo mai viste si 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 adesso dai ok asciugatevi asciugatevi andiamo dentro andiamo dentro stiamo i carabinieri dai 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 via 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 scappa dentro 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 spegni 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 vogliamo andare in camera andiamo in camera che qua fa freddo venite venite sami sami vieni chiudi chiudi tutto chiudi tutto con la chiave oh my god marietta ma chi è ma chi è chi è non lo so Isabella non lo so non sono ma hai detto non è io sono qua da due mesi non mi è mai successo non ho mai visto forse perché quando si fa il bagno a mezzanotte avevo sentito dire che da queste parti narra una leggenda che spuntano all'improvviso queste facce strane si no no aspetta che chiudo chiudo chiudiamo tutto quando dormi quando dormi subito una doccia e andare via si ragazzi dove ce ne andiamo Ani vuoi andare via sei spaventato andiamo a casa ma in quale casa andiamo noi non ho un'altra casa la Lara ah no cosa ci è mi ha fatto paura perché cosa è successo si è aperta la porta oh Ani attenta Vane chiudi a chiave chiudi a chiave scusa ok ok ma voi cosa avete visto in particolare a me sembrava una scimmia anche te anche te aria sim a monkey a monkey a monkey man infatti un uomo scimmia ha ragione oddio questa è un'altra maledizione la maledizione della porta che non si chiude no no perché ho fatto questo oh sei sempre chiusa cosa è perché eh i nostri papà non ci sono no infatti sono andati via a mangiare in quel strano ma noi siamo andati con loro però loro sono andati in centro a fare un giro noi cosa ho detto è vero ci sono i mostri di notte ci sono i mostri di notte ma io non lo sapevo però mi ho sentito parlare scimmietta hai preso mio papà e tuo papà perché non c'è beh loro sono andati in centro a fare una passeggia e se gli diamo una banana magari se ne va una banana ma non ne ho banane però oggi non le abbiamo comprate almeno no vabbè no 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 dai no 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 se gli diamo una banana no dai no non credo secondo me se gli diamo una banana lui torna poi perché se gli diamo da mangiare torna quindi è meglio non dargli niente perché noi abbiamo dato il cibo al gatto appunto noi abbiamo dato il cibo al gatto e il gatto è tornato però noi i banane non ne abbiamo mai date a nessuno quindi non vedo perché questa scimmia non diamo i banane perché altrimenti torna ti ricordi per il video che avevamo fatto a nuova a nuova la forza avevamo fatto un video e c'era lo scimpanzè si oddio non è che è lui era tutto nero aria sei tranquilla amore sei tranquilla non ti preoccupare si è losissimo si gli avevamo dato anche la banana si gli avevamo dato la banana ma secondo te non manchino i banana però poi manchi banana si secondo io questa scimmietta è la fantasma di Villa Danessa di Villa Danessa la nostra villa e noi non lo sapevamo l'abbiamo scoperto stasera e se non è di questo è il figlio di quello che avevamo visto strada nuova non lo so si vane tranquilla amore non ti preoccupare adesso mi chiamo allora facciamo una cosa ragazze chiudiamo il video qua ok perché io sinceramente devo uscire a controllare perché è comunque casa mia e devo capire che cosa sta succedendo chiamiamo nel frattempo zia Samantha zia Samantha chiama i carabinieri chiami i carabinieri zia Samantha è coraggiosa è mia sorella ma siamo diverse lei è più coraggiosa di me no aspetta prima di uscire guardo anche quella finestra lì mi preoccupa un po' io ho visto qualcuno no dai ti prego Vanessa stai calma ok stai calma salutiamo ci vediamo al prossimo video ragazzi ciao andiamo perché c'è qualcuno si dobbiamo oh sorry no no apriamo la porta chiamiamo i carabinieri e riusciamo con la finestra ok va bene ciao ragazzi ciao 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 ragazzi oggi faremo una giornata completamente intera solo con Isabella Aria Vanessa e Anastasia i genitori di Aria e Isabella sono andati al mare io mi dedicherò a loro quattro quindi inizieremo questa giornata con una morning routine e poi vedremo che cosa succederà adesso vi faccio vedere come dormono tutti e quattro insieme ragazzi guardate eccole che dormono guardate come dormono tranquille e aspettiamo che si svegliano eccole qua oh Isabella si sta svegliando Vanessa e Anastasia orno vi state svegliando? ciao buongiorno Isabella e Aria ciao amore ma che bel buongiorno sorridente ciao amore mio ciao Topolina chi vuole la colazione? breakfast Aria? si si amore bread toasted bread Aria do you want toasted bread? si panne tostato? con la nutella toasted bread with nutella? si ok isa dopo? non quello? no quello senza bordi quello bianco Isabella e Vanessa invece soprattutto Vanessa sta ancora dormendo amore vuoi fare colazione? così non si fa troppo tardi? eh? si? mi dici dopo cosa vuoi? aspettiamo un attimo però riprenditi colazione è pronta ognuno di noi ha qualcosa di diverso ovviamente potevano mica scegliere tutti la stessa cosa andiamo a chiamare le bimbe facciamole fare colazione bimbe la colazione è pronta breakfast is ready andiamo? Vanna si sveglia? dai andiamo a far colazione che è tutto pronto? sì ah grazie per aver scelto ognuna di voi una cosa diversa gentilissime tu aria no tu aria no è vero è vero ok vi aspetto fuori ma guardatele con quale vivacità vengono a mangiare qua c'è il tuo e quello di aria qua c'è la tua fetta tostata con la nutella e quella di aria Isabella qui toast Isabella un toast e Vanessa e Ringo con il tè caldo perché voleva scaldarsi un po' viste le temperature molto basse dimmi amore tell me baby non volevo dirmi niente ok buona colazione prendilo vuoi anche prenderlo eh amore dovevi pensarci prima è qua tieni buona colazione a tutti e i cellulari li mettiamo a parte? aria stop phone Vanessa stop telefono vai per favore tre per favore due per favore uno ok Isabella è finito? brava era buono? eh ah si un toast è sempre buono eh andiamo aria aria look your face oh with nutella amore ok allora colazione finita bravissime volevo dirvi quello che volevo fare oggi con voi se vi sta bene ok tu Isa tu traduci a aria vuoi indovinare no 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 non indovinerai mai allora adesso guardatemi tutte look at me please attention now ora eh fate il letto io metto in ordine alcune cose mie in cucina poi se vi va prepariamo tutti insieme una crostata alla nutella vi va di fare una crostata? aria do you want to cook a cake with me with us? eh ti va? ok ok poi con la nutella hai già fatto? con la nutella si poi se avrete fame pranzeremo e poi tutti in piscina fare un bel bagno va bene? non ho un'idea quale? possiamo mangiarla anche dopo la piscina che cosa? la crostata merenda anche di sera si quando volete ok? un dolce esatto un dolce si va bene? ok allora adesso vi do ancora 5 minuti di relax e poi ognuno di voi sparecchia mi porta se voi non vedete la zia Samantha allora loro due sono andate al mare e loro due sono rimasti con noi esatto io l'ho già detto io stamattina ai nostri cucciolini che la zia e lo zio sono in spiaggia e loro sono rimaste con noi ok Ani? allora ognuno di voi poi sparecchia porta dentro quello che c'è da portare butta le carte la plastica e poi prepariamo il dolcino va bene? va bene ok ah ma ragazzi io ho aiutato a fare tutti questi cassetti guarda quali amore? ah tutti questi ripiani sei stata bravissima è vero amore l'hai aiutato tu vero? si perché lui ha fatto tanto lavoro io l'ho aiutato a fare anche i cassetti amore sei tutta sporca di cioccolata in faccia stai attenta a non toccare il dondolo perché lo sporchi ok? e poi vedete aria aria cosa fa aria? abbiamo due amache non devono litigare esatto abbiamo due bellissime amache rilassanti al massimo vero? tra pochi giorni torniamo a Novara Anastasia lo sai? manca pochissimo ma si ritorna a casa oddio non mi sembra vero volevo stare anche di più con le mie cugine eh ma anche loro tornano a casa loro iniziano la scuola prima di noi e dove state andando? a lavarvi? ok dentini brave andiamo a lavarci i denti dai poi facciamo il letto altrimenti non si capisce niente vuoi giocare come Barbie? possiamo fare un chocolate Barbie? un chocolate Barbie? oh yeah cos'è il chocolate Barbie? so you like it's chocolate and you have to make it crusting look like a Barbie ok aspetta Ani chocolate chocolate Barbie Barbie dopo vediamo chiediamo Isabella ok? aspetta dici tu il cioccolato di quello da mangiare? ah c'è il chocolate yeah you have to make it with icing you have to make it look like a Barbie ah ok ok Anastasia e Aria si lavano i dentini e la faccia io ho visto queste che le hanno la debba le ho viste bravissime bravissime che vi lavate ci vediamo si accende se voi si mette la luce al buio si si accende anche lo specchio si è vero non si vede altrimenti vero? non ha senso se era già la luce del giorno esatto ok bravissime bimbe anche i dentini eh? si appena offerto da Anastasia ma volevo vederle sono delle vitamine a forma di orsetto vero? beer beer vitamin si mi amico ok oh vitamin anche quello? vitamin wow hai capito dobbiamo farle anche noi queste cose adesso quando torniamo a casa te le compro va bene? vuoi un orsetto vitamina? si? guardiamo un po' questo orsetto ah proprio te lo mette in bocca a lei vediamo? ah non riesco a vederlo questo orsetto ma fa niente buono? di cosa sa? di frutta? no Ani si eh? di frutta guardate è anche lo spray vitamina guardate ragazzi qua eh si no thank you che carino ragazze dobbiamo fare gli etti eh perché poi dobbiamo preparare i dolci ok facciamo la crostata alla nutella Vanessa sei contenta? ah che carine Stasia e Vanessa dove vai? guarda ma ti ho fatto il cuore dovete fare il letto Ani dai per favore su un secondo se restiamo tutto il giorno a letto la giornata passa non abbiamo concluso niente ok? dai Isa vuoi aiutare tu Vanessa a piegare questa coperta? ok? dai che in due riuscite meglio ok tu poi mi aiuti ad aspirare il pavimento eh ok? che bella foto che è uscita mamma ragazzi sono tutti e quattro con il telefonino paura la foto che è uscita sono io? che carina mi prendi ok dai piegate il piumone bravissime adesso lo portiamo di là wow brava Vanessa brava Isabella ora dobbiamo fare il letto di là prendiamo i cuscini li spostiamo chiudiamo bravissima Aria bravissima Aria ha pulito i cuscini molto bene Aria brava ok sei stanca hai fatto il letto sei distrutta hai bisogno di dormire secondo me mangiamo le pennette avete scelto le pennette con ragù? si Aria cosa stai mangiando? cosa stai mangiando Aria? chill caramella la pizza buona Anastasia ci sei? sei con noi? sei connessa? sei super connessa vanno bene le pennette con ragù amore? si salute allora facciamo le pennette con il ragù poi prepariamo i cake i dolci va bene? si va bene? then we cooking cake with nutella ok? com'è la pasta della zia Romina amore? Aria? com'è la pasta? it's good? si? è buona? com'è Isa? buona ti piace amore? è uscito bene il mio ragù? perfetto Ani ti piace? stasi e Daria sono già sparite però hanno mangiato tutto bravissime tu Vane? non hai mangiato niente ma perché Vane? ma devi mangiare hai troppo caldo Isa? vuoi mozzarella e pomodoro? sei piena sei piena anche te? e beh hai mangiato la pasta vai va bene allora sparecchio ragazzi poi vi va di fare questo dolce? così facciamo merenda più tardi? si dai siamo tutti pronti per fare la crostata perché vi siete portati i telefoni dietro? voglio che i telefoni rimangano Anastasia? Anastasia? la testa dentro la farina no no il telefono lo vai a portare dentro e andate a lavarvi le mani ok dai wash hair wash hair no hand sorry e ora i capelli prima è Anastasia no the second Isabel Anastasia hai fatto cadere lo zucchero devi fare attenzione primo danno allora come avete potuto ben notare abbiamo due contenitori ma dov'è l'altro? è rimasto dentro va nel blu prendilo con la farina l'ho dimenticato allora ci sono ci sono Isabella due two cake because one is for your dad uno è per il papà di Isabella perché il papà di Isabella è allergico al latte quindi non posso mettergli il burro tanto meno la nutella quindi decidiamo come fare Isabella e Aria e Vanessa e Anastasia oppure Isabella e Vanessa Aria e Anastasia ok allora Vanessa mettiti qua Isabella e Vanessa preparano la torta per lo zio di On la crostata per lo zio di On mentre Aria e cambia niente lo sapevo guarda non cambia assolutamente niente tanto la devi mangiare più che fare allora fanno male il procedimento è lo stesso Ani vai di là e Aria qua ma Isabella non ci sta spostati più in qua ha ragione Isabella no Anastasia qui vediamo se il cervello di Anastasia eh no voi due state in piedi no eh non ci state in quattro si siamo loro due là qua ok Anaria è nell'angolino qua ce l'ha fatevi più in qua ok allora adesso vi spiego cosa dovete fare poi i nostri cucciolini voteranno la crostata migliore allora io ho già messo la farina perché altrimenti diventava troppo lunga la situazione ora dovete aggiungere lo zucchero dai insieme zucchero e we call yeah all bravissime e bravissimi adesso dovete aggiungere il burro the butter quello si vai Anis tutto tutto yes this is for for you quella è for your dad ok adesso dovete mescolare 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 velocissime anche Aria dai Arietta vai veloci veloci dai Isabella non avere schifo ma dobbiamo spezzettare tutti i pezzettoni si lo so dovete riuscire a formare una bella palla vediamo bravissime Aria e Anastasia ragazzi fare la pasta frolla è difficile adesso vi faccio mettere le uova dopodiché dovete formare una palla dovete essere super veloci d'accordo una palla intanto dovete riuscire ad amalgamare tutta la farina con il burro dai dovrebbe venire tutta sbriciolata per ora perché non ci no perché manca esatto amore manca l'uovo ancora e l'uovo è quello che amalgama e che è compatta dai dovrebbe essere tutta farina anche quella lì lì su guarda amore guarda come fanno loro dovete prendere la farina buttargliela sopra lavorare ma non quella quella che non avete lavorato così così tutta così e pink 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 sì com'è tutto benissimo adesso è il momento di mettere le uova ok quante due a testa un uovo a testa ok cosa è successo vuoi lavare le mani però dovete ancora dovete ancora vai vai no ce l'ha già lei ce l'ha già aria brava isa diglielo ok bene un uovo è pronto bene raccogliete brava aria bravi è caduto qualcosa anche qui non lo sappiamo perché non la faccio no dai sì certo certo no ok già fatto ce ne vogliono due Anastasia non 15 dai lavorare lavorare work adesso è difficilissimo il lavoro se non esce la pasta frolla adesso non esce più ti aiuto io dai dov'è perché non ti piace Ani non devi lanciarlo in giro per il tavolo la palla si fa lavorando bravissima Vanessa usa anche l'altra mano che è piena di uovo dovete appiccicare tutto vedi questa farina qua che non è appiccicata la devi prendere Anastasia ma sono sticky e sono sticky 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 brave complimenti ad Anastasia a Vanessa e Isabella non mi guardare ma l'ho solo sbagliato nome dai su bimbe ma dai che ce la fate anche voi sì che ci riesci troppe mani secondo me ognuno fa quello che vuole dai dai bravi occhio che cade la marmellata dai ce l'abbiamo lontano di un metro e avvicinalo guarda che tu fai cadere io lo so come facciamo vuoi che lo faccio io? ok hai bisogno di un aiuto? sì ok vuoi complimenti bravissime allora ce l'abbiamo fatta o quasi è stato un po' difficile stendere la vostra costata perché la margarina ha una consistenza diversa era sciolta e quindi era molto morbida cioè si appiccicava le mani quindi ve l'ho già stesa io potete mettere la marmellata tu devi stenderla invece con le tue manine canta una canzone Aria Aria singe Aria schiaccia e basta bisogna ok oh scusate uno solo un po' a testa dai lei la mette io la faccio ok tutta Isa tanta sì sì vai vai e tu fai le strisce vuoi stenderla anche tu dai stendere intanto è arrivato il nostro gatto a trovarci ma ciao ma ti sei allontanato per un paio di giorni eh va bene vediamo no di più di più ok un po' a testa dai no di più di più mettetene ancora marmellata vediamo un po' bravissime complimenti adesso è il momento di mettere l'antella bravissima Vanessa e bravissima anche Isabella complimenti adesso c'è da mettere le strisce di pasta frolla ma Ani ti conviene far così guarda ti aiuto insieme piano piano vai vai cosa c'è Ani parti dal mezzo e distribuiscila Ani faglielo fare un po' anche a Isabella a Daria e faglielo fare a lei senza la tua un po' a testa come hanno fatto Isabella e Vanessa hanno fatto un po' a testa non col due mani ma fa niente va bene lo stesso ragazzi siete bimbe siete già bravissime anche tu hai fatto così non sei mica perfetta anche tu guarda ce l'hai fatta a fare una striscia Vanessa ok Isa qua pat e schiaccia brava anche se sono più piccole non fa niente vane allora ragazzi cucciolini crostate finite quella di Aria e Anastasia sembra uno smile una faccia quasi sorridente ma complimenti ma wow allora l'aspetto è il migliore è questo quello che sembra più una crostata ma l'impasso è più buono questo io lo so già però tanto quelle nello zio di On no non è vero me la mangio anch'io perché a me piace quella con la marmellata e non quella con la nutella quindi vado ad accendere il forno e inforniamo volete per caso un ice cream? no no ice cream? io si si oh com'è? bello bello speriamo che sia anche buono tu stai mangiando il ringo? no il il baiochi gelato wow pausa gelato e poi bagnettino in piscina eh? e vi rinfrescate un po' ok? e questa giornata sta per terminare vi siete divertite per adesso? sì eh? ti sei divertita amore? ehi oh ciao 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 ora abbiamo tutta una maschera così per andare al mare guardate eh vado sotto Isabella guardate no vediamo vediamo che bella questa maschera ma che belle bravissima amore non esagerare andare sott'acqua eh cosa stai facendo? stai salvando le lucertole amore? dimmi amore si? can you go get the ball? the ball vuoi? dobbiamo fare i tuffi facciamo la gara di tuffi? come si dice gara di tuffi in inglese? una spina vieni qua che te la tolgo vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua dove l'hai presa sta spina? perché cammini scalza vabbè non esagerare vabbè non esagerare aspetta allora Anastasia la prima aspetta Aria vieni più in qua pronta Anastasia? uno due sott'acqua brava aria 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 sott'acqua vai aria attenzione a non scivolare Vanessa tienila ho pure che scivola vai dietro wow Vanessa piano con calma spostati aspetta Aria che si sposta uno due tre ma Isabella non ha voglia Isabella si sta rilassando ora aspettiamo che arriva anche Isabella e facciamo la gara di chi rimane di più sott'acqua ok ok uno due tre go vai dai Ani facci vedere mitica anche Vanessa e poi aspettiamo Isabella se mai verrà brava con l'avvitamento ora sta per entrare anche Isabella quindi possiamo fare l'ultima challenge prima di concludere questo video che rimane di più sott'acqua ok Isabella non vuole entrare oggi non ha voglia e quindi iniziamo questa challenge chi rimane di più sott'acqua chi inizia per primo mi raccomando non dovete esagerare d'accordo ascolti dove è Aria vai Aria ok vai quindi no 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 go Aria vai uno due tre 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 vai Ani tre 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 quattro cinque sei sette otto nove 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 nine second non basta aria questo è super Aria vai Vane uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici quattordici quindici sedici diciassette diciotto diciannove venti ventuno ventuno secondi Vanessa ti avevo detto di non esagerare bravissima Vanessa hai vinto allora io concluderei questo video one moment please concludiamo questo video sei vai 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 Aria se Isabella ha cambiato idea vediamo se riuscirà a battere i 21 secondi Isabella non esagerare quando non ce la fai più esci eh pronta ha freddo Isabella non aveva voglia ma la forza della competizione è stata più forte ok vai Aria due uno giù uno due tre bravo tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici quattordici quindici sedici diciassette diciassette secondi e la campionessa rimane Vanessa allora ragazzi aspettate aspettate no è bello cosa fai Ani mi faccio va bene è l'ultima volta uno due tre quattro cinque sei sette sempre meno Anastasia sempre meno posso fare ancora ok lo fai però prima salutiamo i nostri cucciolini diciamo ai nostri cucciolini di iscriversi al canale con le cuginette più pazze del mondo attivate la campanella lasciate un like a questo video e iscrivetevi al canale ciao è arrivata mezzanotte le campane sono in festa voglio spiare papo natale non ci vedo niente di male presto Anastasia corriamo giù ma